Charles Baudelaire Baudelaire, poeta, scrittore, giornalista, critico letterario, filosofo, critico d'arte, aforista, saggista, traduttore francese, nella poesia Fuori del mondo, dice Questa vita è un ospedale dove ogni malato desidera cambiare letto. Quello vorrebbe soffrire accanto alla stufa. L'altro crede che guarirebbe vicino a una finestra. Io mi figuro che starei sempre bene là dove non sono. E il pensiero di tale sgombero è uno di quelli che io rumino sempre nell'intimo. Commento Il pessimismo ecumenico è uno stato di coscienza molto doloroso che spesso trasuda nel viso del pessimista, come accadeva in Baudelaire. Ma è proprio quel dolore che lo farà crescere oltre misura nella vita successiva. Grazie. 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 Grazie.